Mi trovo a Perito, provincia di Salerno, sto per incontrare alcuni dei componenti della Proloco per parlare della prossima edizione di Stafocara 2019 che si tiene dal 27 al 29 dicembre 2019 in Piazza della Libertà, proprio qui in questo fantastico comune. Ripetiamo dopo l'anno scorso Stafocara, questa manifestazione invernale che è nata lo scorso anno e visto che l'anno scorso abbiamo avuto un discreto successo, la riproponiamo. Quest'anno nel 27, 28 e 29 di dicembre, sempre qui a Perito in Piazza della Vittoria, una manifestazione che si concentra tutta nella piazza dove troverete degli stand che proporranno i piatti tipici della tradizione legati alla stagione invernale e al periodo di Natale. La cosa bella di queste feste è anche portare in evidenza le parole di Aletta. Sì, sicuramente è bello portare le parole di Aletta e la tradizione che c'è qui a Perito ma che ci accomuna poi a tutto il Cilento. Foglie e patate, i broccoli con la salsiccia, i dolci tipici del periodo di Natale, quindi dagli struffoli agli scauratieli e poi tanti altri primi piatti. Il programma musicale prevede il 27, l'Alma Latina, gruppo che appunto fa musica latino-americana, il sabato 28, il Viento di Terra e il 29 ci saranno i Tarantanobes e i Lanternina Folk. A parte la prologo di Perito, tanti auguri a tutti gli amici di Cilento Channel e a tutti i vostri telespettatori. Grazie. 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 Grazie.